Nell'immediato post partita ha detto che la squadra non le è piaciuta negli ultimi dieci minuti del primo tempo e poi nella ripresa. A mente un pochino più fredda dopo mezz'ora la prestazione nel complesso come la giudica? Come prima, io sono sempre lucido nell'analisi e cerco di essere sempre lucido e spesso e volentieri mi riesce. La partita ha detto questo, per 30 minuti il Foggia è stato padrone assoluto del campo, giocando bene. Dopodiché negli ultimi 15 minuti siamo andati dietro a situazioni di contrasto verbale, di specchiarsi un po' troppo e abbiamo dato l'infa agli avversari. Poi siamo andati sul 2-0 con un gol straordinario ma non meritato in quel momento per come avevamo finito il primo tempo. E da lì poi c'è stato un blackout dal 2-0 al 2-1 dove la squadra veramente non ha più giocato, o meglio ha pensato di poter chiudere la partita facendo un altro gol senza preoccuparsi che mancavano ancora 35-37, non lo so, non mi ricordo, però mancava ancora tanto, troppo, troppo per poter pensare che la partita potesse essere finita. E una volta sul 2-1 poi la partita non la recuperi più, mentalmente non la recuperi più. È come se tu prepari male una partita e poi quando l'arbitro fischia pensi di poter entrare in partita. No, l'hai persa, l'hai persa nella testa e quindi non riesci a fare niente. E questo è successo a noi. Ma la colpa è mia perché non sono riuscito a trasmettere quello che io stavo percependo, quello che avevo percepito e quindi è responsabilità mia. Peralta ha fatto anche mea culpa, ha detto abbiamo lasciato il resto della squadra troppo solo, magari eravamo troppo distanti dal centrocampo e dalla difesa. Ha visto anche lei un po' di reparti scollati? Eh ma quando tiri la coperta da una parte o dall'altra, la squadra oggi è stata troppo lunga per troppo tempo durante la partita. E questa squadra è andata in difficoltà a inizio stagione perché giocava su 60-65 metri e non se lo può permettere perché le caratteristiche, ma non se lo può permettere nessuno. Ma soprattutto questi giocatori e quindi fino a che siamo rimasti corti e aggressivi abbiamo dominato la partita. Dopodiché ci siamo allungati ed è diventata una partita completamente diversa che noi ne siamo stati capaci gestire e leggere. Può aver influito anche l'impegno di Mercoledì in Coppa oppure secondo lei è marginale? Scusa che non mi piacciono prendere, quindi abbiamo sbagliato, punto e basta. Grazie.